Ciao a tutti, scusatemi se è da tantissimo, da tipo un mese che non faccio i video però ve lo posso assicurare, sono occupata come se tutto il mondo fosse occupato e quindi non ce la posso fare allora, vi dico una cosa, una super notizia allora, vi dico già una cosa che vedete questa telecamera che mi metto? che appunto quando inizia il video per iniziare, voi cliccate giusto, vedete nella forma così, così, così ecco, non ci avrete capito niente, proprio va ecco, io da oggi in poi non userò più il telefono per fare i video solo in questo giorno ma comprerò una telecamera appunto per fare i video come ogni vlogger, come ogni youtuber appunto e quindi non vedo l'ora vi dico già una cosa, vi aggiorno di una cosa vi comprerò questa telecamera, ve lo assicuro però prima devo vedere come si usa, come si fa caricare i video di tutto e di più quindi ci vorranno mesi oppure anche anni però se appunto non riuscirò a trovare la telecamera come si mettono i video ve li continuerò a fare qui sul telefono però ve lo assicuro che in un modo o nell'altro troverò una telecamera allora ragazzi, avevo messo stop perché ho sentito il campanello sono andata a guardare ma niente, quindi non lo so però vabbè allora, avevo messo stop appunto perché c'era il campanello come avevo detto e quindi che? mi è arrivato da nulla? che? mi è arrivato un foglio bianco se sentirete dei rumori comunque saranno i miei genitori foglio bianco è una scusate ho dovuto di nuovo mettere stop perché mia mamma è venuta a chiedermi cosa volevo da mangiare comunque non ho capito bene cosa è questo foglio tutto bianco con una penna mi è arrivata anche una penna forse ha detto non lo so non lo so una lampadina guardate c'è una lampadina wow bellissima non lo so una penna con qualcosa c'è scritto qualcosa allora allora dovrebbe essere una penna a raggi X quindi ci sarà scritto qualcosa a raggi X come vado a non pensarci allora leggiamo non vedo l'ora che ci sia sia la telecamera ha 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 eh guardate non ve allora non vedo l'ora che ci sia la telecamera ha 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 che ci sia la telecamera ha 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 eh chi è che ha inviato sto coso davvero l'ho trovato così da nulla non vedo l'ora che ci sia la telecamera ha 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 che significa ah forse sarà un fan che è venuto a dirmi non vedo l'ora che ci sia la telecamera sì però come ha fatto a inviarlo così avrà suonato il campanello sarà entrato avrà messo la penna poi se ne sarà andato non ho capito bene questo segno però vedremo allora ragazzi vi prometto che la prossima volta avrò la telecamera oggi farò più di un video ve lo posso assicurare perché è da tantissimo che non faccio video comunque voglio un po' più indagare su questo foglio quindi vedremo tra poco promesso nel prossimo video vedremo un po' di più vediamo guardate ho scritto queste cose ma non capisco niente cioè non vedo l'ora che ci sia la telecamera che significa chi è? la risata ragazzi ci vediamo nel prossimo video per vedere che succede ciao